Giustizia! 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 Ladri! Ladri! Dentro gli avvocati, fuori i risparmiatori. La voce di chi questa mattina per difendere il suo assistito, imputato nel processo del crack della Banca Popolare di Vicenza, ha cercato di smontare decine di costituzioni di parte civile adducendo svariate motivazioni e l'urlo strazeante invece di chi è rimasto fuori in tutti i sensi. Io ho perso 40 anni di lavoro e lavoravo in Banca Popolare di Vicenza. Hanno fatto i sequestri per le spese del Tribunale, questo lo vedo una cosa non giusta, insomma, perché dovevano fare i primi sequestri, non solo adesso. Quelle che meritano di essere messe in galera sono fuori e gli onesti sono come noi, qua che aspettano e sono stanchi di aspettare. Qual tu ha perso lei? Bene, potevo acquistare un SUV di quelli tipo Porsche. I risparmiatori che hanno contestato il sequestro conservativo operato ieri dalla Guardia di Finanza ai beni degli imputati. Nello specifico nel sequestro sono finiti alcuni terreni di proprietà dell'ex presidente Zonin, oltre ad un vigneto, un piccolo bosco e partecipazioni, sigilli e tre abitazioni di proprietà dell'ex direttore Sorato, titoli di Stato a Pellegrini che la Procura aveva intercettato mentre stavano per essere trasformati in lingotti d'oro, sequestri che però di fatto andranno a tutelare lo Stato per le spese processuali e non loro, i risparmiatori. E per noi non ci sarà nulla, vogliamo dei capi di imputazione seri, pesanti, che ci sia giustizia e che ci sia restituzione della somma che ci è stata derubata. Gli avvocati dei risparmiatori a decine oggi in aula si dicono pronti ad una contromisura che potrebbe in parte sbloccare i beni sequestrati attraverso la revoca degli atti, una procedura lunga e costosa ma che potrebbe rimettere in gioco quei beni anche a favore di chi ha investito i risparmi di una vita sulla Banca Popolare.